Allora, iniziamo con le premiazioni. La città di Parma premia Cecilia Alfieri, la città Special Olympics, San Marino e la città di Parma. La città di Parma, allungiamo tutti oggi a Bello Special Olympics. San Marino e la città di Parma. La città di Parma da Marco Furni, la città di Parma. La città di Parma, allungiamo tutti oggi a Bello Special Olympics. San Marino e la città di Parma. San Marino e la città di Parma. Marco! 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 La città di Parma, parma premia Mirko Lafranchi. Parma! 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 La cittadina di Palma, Mattia Giacobinelli. La cittadina di Palma, Anita Mazzoni. La cittadina di Palma, Mattia Giacobinelli. La cittadina di Palma, Mattia Giacobinelli. La cittadina di Palma, Mattia Giacobinelli. Questa è una grande persona, bellissima. Ma siccome che noi rappresentiamo il mondo, o spesso in tutto il mondo, e come tale, siamo conosciuti per rappresentarlo. Questa è la gente barbella. Questa è la gente che merita barbella. Grazie per il riconoscimento di tutte le parti che noi abbiamo. l'avete visto anche dai primari. Là esiste l'amicizia. Là non esiste l'alloranza, l'intoparsi e fare cose non belle per vincere. Qua si vince in base alle forze e quello che dice sicuramente. Chi non si comporta in tale modo, chiaramente viene squalificato. Una cosa, ringrazio il comune di Palma, della figura, della signora e dell'assessore, tanto per la conoscenza a me, e della signora e dell'assessore. Grazie.